L'avevano detto, correva il mese di agosto del 2020, l'hanno fatto, portato in tribunale la persona in cui credevano i tifosi del Trani e dal quale, accolto da tanto entusiasmo anche a Palazzo di Città, si sono sentiti presi in giro. C'era la promessa di trasferire qui il titolo sportivo di una squadra di calcio per disputare il campionato di eccellenza, salto tutto prima del ritiro. Molti degli abbonamenti già sottoscritti per un totale di quasi 10.000 euro non furono rimborsati. Adesso Danilo IV è stato citato in giudizio, il processo comincerà il 20 dicembre del 2023. Abbiamo fatto una richiesta formale al signor IV di rimborsare gli abbonamenti e lui ha deciso di disattendere quella nostra richiesta abbonaria e quindi nel momento in cui ti diamo un'ulteriore possibilità e tu non la cogli, a quel punto c'è l'animus di trattenere quelle somme e quindi lì inevitabilmente a mio parere la nostra tesi si configura l'appropriazione in debita. Delusi e arrabbiati ancora i tifosi hanno perso chi 50, chi 100 euro e quella squadra non l'hanno mai vista giocare. Come me tanti altri tifosi stavano addirittura ragazzi che non lavoravano, che hanno trovato i 50 euro così per prestiti da amici, da parenti per sottoscritto l'abbonamento. Ha giocato molto sui sentimenti dei tifosi e questo sinceramente ci ha dato fastidio, ma non perché lui abbia potuto fare un danno economico, ma proprio per non essere preso in giro.